Avrebbe parlato anche del presunto coinvolgimento di altri esponenti politici del centro-sinistra sia regionale sia nazionale, oltre che dei rapporti d'affari avuti con i figli di Tedesco. Questo il contenuto dell'interrogatorio di ieri di Gian Paolo Tarantini, indagato in due diversi procedimenti della Procura di Bari per corruzione, spaccio di droga e induzione alla prostituzione. In tre ore di interrogatorio con la PM Antimafia di Bari, Desiree di Geronimo, nell'indagine sulla presunta gestione illecita degli affari pubblici nella sanità, Tarantini avrebbe parlato di altri esponenti politici del centro-sinistra nazionale e della cattiva gestione di una società fondata con i figli di Tedesco e poi chiusa. In riferimento ai politici ha parlato degli stessi che sarebbero finiti sotto la lente della Procura per l'ipotizzato illecito finanziamento ai partiti. Conferme il PM li ha cercati anche a Milano, dove ha ascoltato una persona importante nell'indagine, la cui identità resta al momento segreta. Intanto, i consulenti finanziari della Di Geronimo sono al lavoro su bilancio e conti correnti di PD, lista Emiliano, Sinistra Libertà, socialisti e autonomisti e rifondazione comunista regionali per individuare presunti flossi anomali di danaro provenienti dalle casse di imprenditori pugliesi. Soldi che, secondo prime ipotesi tutte da verificare, sarebbero confluiti nei conti correnti personali di alcuni importanti esponenti politici del centro-sinistra. L'accertamento a livello nazionale serve per individuare eventuali altri politici che possano aver rivestito un ruolo nella presunta associazione a delinquere ai cui vertici ci sarebbe stato l'ex assessore regionale alla sanità Alberto Tedesco.